20 marzo 2018 Milano Iale Reynolds, i Cuban reggio Emilia 82-65, 19-15, 40-28, 63-51, Reggio Emilia affonda nel primo match di semifinale contro il Lokomotiv, Cuban e adesso si joker tutto venerdì in gara meno 2, davanti al pubblico amico del Palabigi. Se ce la far, a n dr alla bella in programma mercoled prossimo in Russia, altrimenti sar game over. Imbattuti, alla Grissin e Bonn, privadi della Valle rimasto a casa per un problema alla schiena, non sono bastate le buone prove di Chris Wright, 14 punti e 4 assist, e Iale Reynolds, 13-9 rimbalzi. I russi, ancora imbattuti in questa Eurocapo con un impressionante bilancio di 19-0, hanno cambiato marcia nel finale di 2-4 piazzando un break di 16-2 firmato da Collins e Antipoff e da Elle in poi hanno gestito con cinismo il vantaggio accumulato. Il buon avvio di Reggio illude, 0-5 dopo due minuti, ma gli emiliani si caricano subito di falli, 2 per Cervi e Marco Ischvili al quinto minuto, nel vano tentativo di fermare lo strapotere atletico di Elegar che permette ai suoi di chiudere il primo quarto in vantaggio, 19-15. La zona 3-2 di Coach Menetti confonde le idee a culagine con un grande Reynolds, la Grissin e Bonn risale, 23-23 al quindicesimo minuto, prima di subire un devastante break di 20-5 ispirato da Antipoff e chiuso dalla tripla sulla sirena di Collins. All'intervallo il locomotive Cuban cose comodamente avanti di 15-43-28. La ripresa si apre con una tripla di Babbe Krasnodar arriva al massimo vantaggio con Cuvale, 54-36, qui Reggio ha una reazione d'orgoglio con Nevels e Chris Wright, 54-42 al ventiseiesimo minuto, ma ancora una volta Antipoff e Collins sono spietati nel tenere a debita a distanza gli emiliani, 63-51 al trentesimo minuto. Il sipario cala di fatto a 7 minuti dalla fine quando un chiaro fallo antisportivo non fischiato a Ragland, intervento da Trò sull'Homepart, frustra le residue speranze di rimonta e, sul possesso successivo, lei si innesca un break di 6-0 che manda i titoli di coda. Gara a meno 2 venerdale 20.45 al Palabigi, Krasnodar, Cuvale 16, Bab 12, e Lega Rundici, Collins 10. Reggio Emilia, C, Wright 14, Reynolds 13, Nevels 12.